Buonasera ai telespettatori della rubrica Il Fatto, oggi parliamo di alta formazione e di università con un ospite prestigioso autorevole che ha accettato il nostro invito. Salutiamo e ringraziamo il professor Sergio Caputi, buonasera professore, già rettore dell'Università Gabriele D'Annunzio ed oggi presidente della Fondazione D'Annunzio che tra le tante attività ha come principale, anche quella con la maggiore esposizione, anche interesse nei confronti del territorio, l'Università Telematica Da Vinci, l'Unidav, che è una realtà che sin dal momento in cui lei era rettore dell'università ha cercato di rilanciare in qualche modo. Ora ne è concretamente al timone, intanto come si passa, professor Caputi, da un'esperienza all'altra? Devo dire che è un lavoro completamente diverso, la ringrazio per l'introduzione assolutamente carina che ho fatto. L'aver terminato il mio mandato di rettore di sei anni dell'Università D'Annunzio è stata per me forse anche un po' un punto di arrivo, è stata un'esperienza molto molto bella, sono contento di aver fatto delle azioni tutto sommato positive, ma sono ancora più contento che sia finita l'Annunzio in buone mani, cioè si continuerà, non è che ci sarà una continuità del mio mandato con il nuovo rettore, ma c'è una sinergia molto forte e ci saranno delle idee innovative anche da parte sua e quindi tra queste devo dire che c'è stata quella di nominarmi presidente della fondazione della Gabriele D'Annunzio e quindi anche presidente dell'Università Telematica. Lo devo ringraziare perché effettivamente io l'avevo vissuta da parte, come rettore della D'Annunzio, l'ho dovuta recuperare da un periodo veramente ingarbugliato e quindi ci ho tenuto a mantenerla un pochino in piedi, ma non riuscivo a capire bene il funzionamento di questa struttura. Ho dovuto aspettare il primo ottobre, anzi il due perché il primo era domenica, per insediarmi lì e incominciare a capire veramente dall'interno qual era il funzionamento sia della fondazione che della Università Telematica. Qual è il suo piano strategico per l'ulteriore, lei ha parlato intanto di salvataggio, cosa che è avvenuta negli anni e poi comunque di rimessa a terra, come si dice, di questa importante realtà, ma in particolare nel rapporto con l'Università d'Annunzio, Unidav, come si pone, perché c'è grande concorrenza anche tra università tradizionali e università online, nelle sue strategie da Presidente, come vede il futuro e soprattutto il rapporto con l'Uda? Guardi, se c'è qualcosa che è sempre mancato è stato proprio un rapporto, ma anche informativo, tra fondazione Unidav e Uda. Unidav e fondazione non sono di Sergio Caputti o di qualcun altro, sono di Uda, è una delle attività di Uda, l'Uda c'è la clinica odontoiatrica che io ancora dirigo come settore, ha il CAST che era diretto dal professor Stupia nel periodo Covid, abbiamo fatto un lavoro strepitoso, abbiamo l'ITAB che si occupa della radiologia e delle neuroscienze e la telematica è uno dei settori dell'Università d'Annunzio. Penso che il professor Stupia mi abbia posizionato lì perché vuole che questo settore venga rilanciato, perché a tutt'oggi la fondazione d'Annunzio non ha avuto un grosso impulso, assolutamente, perché l'unica attività che aveva era quella di controllare Unidav, quindi si sovrapponevano due consigli di amministrazione con un solo lavoro e questo per me era sbagliato. Quindi il primo obiettivo è di far funzionare la fondazione, in che modo? organizzando dei corsi che non saranno solamente corsi di laurea, ma corsi di post laurea, di formazione, di aggiornamento, ma in tutti i settori, non è che rimarremo solo sulla medicina piuttosto che sulla giurisprudenza e mia intenzione è provare a far organizzare alla fondazione d'Annunzio in modo che abbia qualcos'altro da fare, oltre a gestire l'Università telematica Unidav. Ad esempio mi piacerebbe iniziare a organizzare corsi di preparazione per l'accesso a medicina e odontoiatria, alle professioni sanitarie, alle specializzazioni mediche e perché no fare dei corsi sull'accesso alla professione di avvocato, di preparazione a questo, alla professione di commercialista, al concorso da notaio, da magistrato, insomma… Si apre un nuovo scenario. Io ritengo che sia opportuno aprire proprio un nuovo scenario, noi non siamo assolutamente concorrenti di Uda per l'amore del cielo, Uda ha quasi 70 corsi di laurea, noi siamo due, noi ne abbiamo due, appena sono arrivato ne ho chiuso pure uno di economia perché si soprapponeva Uda, quindi non è… però devo dire che la nostra telematica da un punto di vista strutturale e devo dire la sorpresa veramente che ho avuto che non conoscevo, che il personale che lavora sia in fondazione che in Udindav è veramente strepitoso, nei primi anni Unidav ha fatto poco lavoro nei primi anni in cui ero rettore, poi devo ringraziare la dottoressa Chiavaroli che ha preseduto la fondazione Unidav per un periodo e così da pochissimi studenti siamo passati ad avere 530, 540 studenti che io spero di aumentare ancora in questi anni, non è che l'attività di fondazione inibirà l'attività di Unidav anche perché saranno sicuramente complementari perché fondazione assegnerà a Unidav una parte e chiederà Uda di il supporto di docenza per sviluppare i programmi che vi ho enunciato in questo momento. Lei ne faceva cenno prima, vi abbiamo seguito anche noi organi di informazione nei momenti più difficili per l'università che sono stati quelli del Covid, si è fatto in qualche modo anche di necessità virtù nell'implementare delle strutture tecnologiche ed informatiche già attive ma ancor più potenziate nel corso di questi anni, avete messo a terra dei progetti, delle piattaforme, dei software e oggi qual è il livello di qualità anche del personale tecnico che supporta il vostro lavoro, su cui si gioca anche la competitività di un Ateneo Telematico che immagino sia molto accentuata tra un'offerta e un'altra, cosa trova uno studente in Unidav dal punto di vista della qualità e del funzionamento delle strutture e delle reti? Guardi, Unidav è particolare nel panorama delle telematiche perché è veramente l'unica che oggi ha una connessione con la casa madre, cioè con un'università in presenza, un'università statale in presenza e l'unica deve avere una connessione veramente molto forte, tant'è che noi ci orientiamo a cercare, noi abbiamo i corsi di laurea in giurisprudenza con 4 indirizzi, in scienze della formazione con 3 indirizzi, cerchiamo di indirizzarci anche ai laureati dell'annunzio e già laureati, agli ex studenti, magari laureati 3, 4, 5 anni fa, perché questo? Unidav ha giurisprudenza come corso di laurea che può essere utile per i nostri laureati UDA in criminologia, sia triennale che magistrale, può essere utile ai nostri laureati in scienze giuridiche dell'impresa, anche lì abbiamo una triennale e una magistrale e magari con pochissimi esami, oltre alla loro laurea in criminologia o in scienze giuridiche dell'impresa, possono prendere la laurea in giurisprudenza e avere il titolo di avvocato, quindi è un'offerta che ho chiesto già al Rettore Stupia di offrire tra virgolette ai nostri ex studenti, perché mi sembra corretto, tutto sommato abbiamo gli stessi docenti, c'è la possibilità di tramutare o di aggiungere a una già importante laurea in criminologia o in scienze giuridiche dell'impresa, ma sto prendendo al momento solo questo esempio, aggiungere una laurea in giurisprudenza che può aprire nuove strade sul mondo del lavoro, quindi ritengo che assolutamente sia qualcosa di molto favorevole, tra l'altro abbiamo attivato in questo mese i servizi Azzu anche per gli studenti, i nostri della Università telematica, cosa vuol dire? Che anche gli studenti della telematica se hanno un reddito di sé molto basso, possono accedere alle borse di studio, possono andare alla mensa universitaria di Chieti o di Pescara, usufruire degli alloggi della casa dello studente di Pescara, lei mi dirà, ma che ci fa uno studente che va sulla telematica di un alloggio? No, è che loro gli esami li vengono a fare in presenza, tra l'altro ho il piacere di dire che noi adesso utilizzeremo principalmente o anche le sedi di Vialipindaro e di Chieti per fare gli esami in presenza dei nostri studenti della telematica e anche le tesi di laurea ovviamente. Bene, abbiamo fatto questo excursus per conoscere un po' più da vicino la realtà di Unidav, però io prima di salutarla le faccio una domanda su come giudica questi primi mesi di attività della nuova governance dell'Università d'Annunzio, come sono partiti? Benissimo, guardi, devo dire sono davvero contento perché sarebbe stato brutto, io ho avuto un lavoro in parte difficoltoso perché c'erano dei contenziosi molto forti appena sono arrivato in Uda, è arrivato il Covid che ci ha dato veramente un problema ma che abbiamo risolto in maniera immediata e brillante. Il Rettore Stupia sta mettendo sul piatto dei progetti che a me piacciono molto, io sono molto contento, lo supporto quando lui mi chiede magari un minimo di supporto e io sono ben felice di farlo, anzi mi sento utile a fare una cosa del genere, per cui assolutamente la vedo in maniera molto, molto positiva, assolutamente sì. Grazie, grazie al Professor Caputi, grazie ai nostri telespettatori che vi resta seguiti. Grazie a voi. Appuntamento alle prossime occasioni con la rubrica Il Fatto, arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti.